Cari telespettatori, buona giornata. Come vedete c'è un logo che non compare usualmente in trasmissione. Sta ad indicare che da adesso in poi, per parecchi martedì di seguito, in diretta, affronteremo in collaborazione con Feder Contribuenti i tantissimi onerosi, gravosi problemi che molti, molti cittadini hanno nei confronti degli istituti di credito, ovvero con le banche. Da piccoli imprenditori, artigiani, ma anche qualsiasi professionista o lavoratore dipendente. Abbiamo avuto anche in passato tante tante segnalazioni, rapporti poco chiari, ansie che si vengono a creare, necessità di contrarre comunque un mutuo o un prestito, come volete chiamarlo a seconda dei casi, finanziamenti che vengono richiesti che non si ottengono, oppure poi dei mutui che hanno degli interessi usurai. Parleremo anche di anatocismo, ma cos'è tutto questo? Come si ingenera? Quale attenzione è necessaria e dovuta? Quali sono i casi a rischio? Qual è il ruolo di Feder Contribuenti? Vediamo di dare queste risposte, soprattutto un aiuto anche a voi che ci ascoltate. Potrete naturalmente telefonare, segnalare dei casi che vi riguardano o delle curiosità che potete avere, oppure chiamare il numero telefonico che trovate in sovrimpressione. Ricordo, non spaventatevi, la sede centrale è a Roma, perché comunque è un'associazione di carattere nazionale, però i legali noi ce li abbiamo, non vengono da Roma, sono sul territorio, quindi le varie sedi si trovano in qualsiasi territorio provinciale, dovunque voi chiamate. Per cui non abbiate timore, c'è un centralino che funziona, c'è un sito, c'è la possibilità di mandare email, e se non altro chiamate noi, poi vi metteremo a contatto direttamente con i professionisti, con esperti contabili e legali. Allora, veniamo a noi, Fabio Dallamura, responsabile nazionale, ufficio legale Feder Contribuenti, ben arrivato. Buongiorno. Grazie di essere qui. Grazie a voi. E poi ben arrivato anche Gianni Mandruzzato, del Centro Studi Anticrisi, consulente tecnico, esperto valutazione dei conti correnti. Buongiorno. Grazie anche a lei. Inizia a venire un po' di malessere, ancora di più quando presentiamo Roberto Lunardi, che è un utente non felice e non contento, anche se ha un bel sorriso sulle labbra, che ci racconterà, utente delle banche naturalmente, che ci racconterà la sua vicenda, la sua storia. Grazie di essere qui. Allora, io vorrei prima di cominciare a spiegare due parole su Feder Contribuenti, chiedo magari a lei, avvocato, se ci illustra le competenze, il raggio di azione, fin dove arriva. E poi voglio intrattenervi con la storia del nostro protagonista. Speriamo che ci raggiunga anche un altro, anche se gli impegni di lavoro lo stanno trattenendo. Così avremo due racconti. Poi, naturalmente, come vengono risolti dagli esperti di Feder Contribuenti. Sì, Feder Contribuenti è un'associazione di consumatori. Come tale, ovviamente, si occupa di tutte le problematiche poi che il consumatore, ma in generale il cittadino e il contribuente, da qui nasce ancora la definizione di Feder Contribuenti, incontra nella sua vita quotidiana. Quindi nei rapporti con le istituzioni pubbliche, nei rapporti appunto con gli istituti bancari, nei rapporti con il mondo del commercio, del lavoro, eccetera. In particolare, visto che stiamo parlando appunto del problema banche, Feder Contribuenti si occupa di assistere e fornire consulenza al cittadino, quindi utente bancario, in qualunque tipo di problematica che possa avere con il proprio istituto bancario. Quindi può essere sia il cittadino, il privato cittadino, sia il cittadino imprenditore, libero professionista, artigiano, commerciante, industriale, che ritenga di aver subito un qualche tipo di danno ingiusto nel proprio rapporto, nello sviluppo del proprio rapporto con la propria o le proprie banche. Quindi Feder Contribuenti si occupa poi di, in particolar modo, negli ultimi tempi, questa è la problematica che più si ripete, si occupa di analizzare, di far analizzare, quindi da propri tecnici specializzati, i dati, proprio i numeri dei vari rapporti bancari che sono intercorsi e verificare se in questi numeri ci sia qualcosa che non va, per dirla in maniera proprio molto semplice. Dopodiché, se così è, si passa alla fase, diciamo così, di attacco, nei confronti delle varie banche, andando a richiedere indietro quello che il cittadino ingiustamente ha dovuto pagare. Dovamo parlare anche dei sintomi, diciamo così, cioè su che cosa stare attenti, perché effettivamente anche in passato abbiamo accennato questi discorsi e tanti si sono allarmati, hanno detto, ma allora che cosa devo guardare, con che frequenza devo andare a controllare? Tanti hanno appunto delle esposizioni importanti, per cui effettivamente può destare allarme e poi purtroppo ci sono anche molti imprenditori. Allora, ci racconti la sua storia? Beh, la mia storia... Secondo che lei è libero professionista, anche se può presentarsi. No, diciamo che nasce come tanti poi imprenditori nel momento di crisi, che le banche ti chiedono il rientro. Cioè, noi non è che avevamo una grande esposizione, però avevamo anche dei capitali. Lei è un'azienda, rappresenta un'azienda? Sì, cioè io lavoravo nel settore dell'edilizia, commerciavo ceramiche, legno e installavo in opera con artigiani anche dipendenti. A un certo punto la banca mi chiede il rientro, cioè, e là io ho cominciato praticamente a rientrare, però giustamente avevo anche dei pagamenti che erano in scadenza, perché non è che c'è un momento in cui te mi chiedi il rientro, io nel mio portafoglio ho centinaia di migliaia di euro per portarti di là, rientrare dopo che te mi hai dato fidi, mi hai dato questo, mi hai dato, cioè, in parte sono rientrato, in parte l'antigianfidi mi aveva già approvato per centomila euro antigianfidi che la banca non ha voluto poi riconoscere, alla fine mi hanno messo in sofferenza, cioè, questa sofferenza ha portato che un altro istituto mi chiama e ha voluto chiudere i rubiniti, per chiudere i rubiniti hanno dovuto mettere un mutuo su dei beni che non erano ipotecati, che io potevo benissimo magari anche se vendendo, portare a casa liquidità e sanare quello che dall'altra parte non riuscivo a sanare, che poi alla fine erano 50 mila euro, non è che fossero miliardi, cioè 50 mila euro. Stiamo parlando di queste cifre. Sì, e io a un certo punto per un paio d'anni sono riuscito a tirare avanti, perché comunque poi quando te vai in sofferenza, le aziende che te hai i rapporti di lavoro ti chiudono i rubiniti anche loro, cioè io a un certo punto dovevo comprare e pagare in cash. Finché sono riuscito, sono riuscito, poi di che ho detto lascia andare tutto. Sono andato alla fede dei contribuenti, ho portato tutta la documentazione, abbiamo riscontrato che alla fine non solo loro che ne devono avere, ma solo loro che ne devono andare, però a me mi hanno creato un danno immenso, perché avevo due figli che lavoravano in azienda, avevano in mutuo con la cassa di risparmio, hanno dovuto vendere la casa e sono venuti a abitare a casa mia con la casa all'asta e che paga tutti i danni adesso. Assolutamente, ma tragedia anche familiare. Se il risultato è a mio favore, voglio vedere chi paga i danni, cosa dovrei fare io? Certo che la signora di ieri che hanno fatto vedere il PDV, che ha detto che è pronto anche a armarsi per andare contro le banche Equitalia, io dovrei fare peggio, dovrei andare a prendermi il mio carro armato e... Allora, avvocato, meno male che il nostro ospite sorride di questo racconto, anche se poi guardando le vere sfaccettature c'è ben poco di cui sorridere, anzi, uno che ha carattere meno forte potrebbe anche prendere altre strade, come abbiamo visto che purtroppo succede. Allora, analizziamolo un attimo, poi vediamo anche di vedere aspetti ben precisi, tecnici, in modo che chi ci ascolta possa comprendere la vicenda. Sì, beh, i vizi sostanzialmente che si possono ravvisare nei rapporti con le banche sono sostanzialmente sostanzialmente il più grave poi è quello che tutti temono è la cosiddetta usura, cioè il fatto che vengano corrisposti da parte dell'utente, quindi del cittadino, degli interessi spropositati in un certo senso rispetto a quello che lui ha ricevuto dalla banca, quindi degli interessi che sono ingiustificati perché cedono una determinata soglia che da qualche anno è prefissata con provvedimento della Banca d'Italia. Questa è sicuramente l'ipotesi più grave, tant'è che l'usura è anche un reato, qui non è solo un illecito civile ma può essere anche un reato, reato poi che è addirittura aggravato, se a commetterlo è un istituto bancario ovviamente. Le conseguenze poi quali possono essere? Possono essere ovviamente a seconda che sia ravvisato un reato oppure soltanto un illecito civile, comunque che l'istituto bancario sia in qualche maniera tenuto a restituire una parte di quello che ha ricevuto. Poi qui ci sono varie possibilità, varie sfaccettature a seconda che l'usura sia originaria oppure cosiddetta sopravvenuta, perché addirittura nel caso di usura originaria c'è una norma del codice civile che dice espressamente che in quel caso se accertata l'usura originaria non è dovuto nessun interesse, quindi addirittura la banca dovrebbe restituire tutti gli interessi che ha percepito dall'utente. Questo è molto importante, anche se è molto più rara a dire la verità dell'usura originaria. Qual è il limite dell'usura? Beh, è un limite variabile, non c'è un limite fisso, varia nel tempo, viene prefissato per legge, quindi in questo momento esattamente non lo so neanche io, forse lo sa il dottor Maltruzzato, ma comunque è un varia. C'è una soglia oltre la quale si può dire questi sono interessi usurari, magari qualcuno che adesso sta prendendo le sue carte e ci aspetta mo' che guardo che interessi mi stanno applicando e dice caspita hanno superato la soglia, quella che è stata fissata. Allora intanto bisogna dividere, parlare di che tipo di usura, sicuramente parliamo di quella che più è comodo e agevole anche riscontrare che è l'usura oggettiva, quella che ovviamente non tiene conto dei soggetti, quindi che sia che la possano commettere, perché si tratta appunto di un reato che di chi riceve questo trattamento, quindi si guarda solamente i numeri, quindi il tasso di interesse. Il tasso di interesse è un tasso di interesse medio, cioè viene rilevato sul mercato per tipo di operazione, quindi viene classificato, ogni operazione deve essere diversa, chiaramente nel caso di un imprenditore che tipicamente ha un filo di cassa e degli anticipi per esempio, è normale che mediamente abbiano un tasso di interesse diverso, gli anticipi pagano un tasso di interesse più basso, quindi è anche corretto che ci sia, visto che c'è un tasso mediamente diverso, più basso, viene riscontrato un tasso medio, fino a due anni fa il tasso medio di mercato rilevato, era innalzato del 50% per ottenere il tasso soglia di quell'operazione, per ogni operazione, da quasi due anni, da maggio 2011 e quindi dal terzo trimestre del 2011, il tasso viene elevato di un 25%, però incrementato di 4 punti percentuali fissi, questo ha portato a un innalzamento dei tassi di soglia, è stato un innalzamento piuttosto brutale, per i mutui è arrivato ad essere anche un raddoppio, non a caso da un paio d'anni i tassi dei mutui sono lievitati, quando la banca li concede, e questo era anche il motivo che le banche avevano addotto per richiedere un cambio nel sistema di calcolo dei tassi soglia, cioè dicevano noi non guadagniamo più, non ci stiamo più dentro, come si dice, e abbiamo bisogno di avere più margine, altrimenti dentro il tasso soglia non riusciamo a restarci, e hanno ottenuto questo soprattutto sui mutui e sugli anticipi, che sono le categorie finanziarie che pagano il tasso più basso, però non si è visto in effetti poi questa grande elargizione, queste grandi erogazioni che siano scoppiate, e quindi invece si è avuto un'ulteriore stretta nel costo del credito, ma non si è avuto un aumento, come purtroppo vediamo bene, non è che il credito sia aumentato da due anni a questa parte, anzi è via via diminuito, è un processo che dura ormai da cinque anni, ma per l'Italia poi nell'ultimo anno ha avuto poi il massimo degli effetti. Tornando alla sua situazione, c'è stato nel corso del rapporto con la banca qualcosa che la disturbava, che l'avrebbe indotta, magari qualche campanello d'allarme che poteva indurla a dire ma perché non mi rivolgo? Diciamo che un po' prima della crisi, un anno e mezzo prima, forse anche meno, adesso non ricordo esattamente, siccome io lavoravo solamente con questo istituto, mi dicono perché non dividi il fatturato con un'altra banca, e io mi sono chiesto come mai, e non ho mai avuto problemi, ho detto anche perché era 35 anni che operavo con loro, prima come artigiano, poi come azienda e come privato, non ci siamo stati problemi anche perché nel momento d'oro, diciamo che parliamo degli anni 2000, si esponevano anche di 100-150 milioni fuori conto, io mi ricordo, sapevo poi comunque che in breve tempo rientravano, per cui loro erano anche elastici sotto questo aspetto. e così ho fatto, ho aperto un altro conto con un'altra banca e ho suddiviso un po' quello che era il rapporto finanziario e proprio in quel periodo là, credo nel 2006-2007, ho fatto degli investimenti, cioè che mi hanno portato a spendere liquidità perché avevo una sede a Padova in via Maroncelli che il bene era di proprietà e ho investito quasi 600 mila euro per l'arredamento, ho messo dentro un geometra, poi ho fatto un altro investimento a Conserve che anche là, tra comprare l'immobile e l'arredo e tutto, ho speso altri 600 mila euro e a un certo punto mi sono trovato poi con i problemi della banca, è vero che poi anche sono andato a trattare con il direttore, sembrava che ci fosse un spiraglio perché comunque la società, che era una SNC, aveva i capitali, aveva dei beni che non aveva mutui e il direttore dopo una settimana è sparito, si trova più il direttore, neanche il vice, qui doveva andare a parlare e dovete andare a parlare a Padova, e con chi doveva andare a parlare a Padova? Non si sapeva e a un certo punto dopo dieci giorni ci siamo trovati la sofferenza e là praticamente è successo quello che non doveva succedere. C'è stata un'azione, era visabile non dico un dolo, però un indurre il cliente in una situazione di difficoltà, dei consigli che non era il caso di dare, o c'è stato un errore da parte del cliente della banca, del signor Lunardi, che ha commesso in questo percorso? Beh, io personalmente, professionalmente non seguo il caso del signor Lunardi, quindi non sono in condizione ovviamente di parlare del suo caso, non so, può darsi che ci sia stato effettivamente... Il fatto che la banca abbia detto, perché non divide su due, che è strano, perché di solito le banche cercano di accentrare su se stesse qualsiasi tipo di rapporto, quando uno parla di altri conti, altre cose, trassalgono giustamente la concorrenza. Certo. Il fatto di dire, perché non divide il fatturato su due banche, non può essere strano. Ma io ho avuto un pensiero, adesso non so se poi è corretto, il mio pensiero è stato che loro comunque sapevano che la crisi che stava arrivando era profonda, hanno detto se suddividiamo il credito siamo meno penalizzati, andiamo a fronte, è normale che una banca non ha solo me, ha clienti, migliaia e migliaia di clienti, per cui se con certi clienti comincia ad approfondire la cosa e dire lavorate con altre banche, ecco che poi il male viene suddiviso, per cui invece di avere una sofferenza di 10 ne hanno l'anno di 5, per cui già cambia la cosa, io ho avuto quell'impressione... No, ma infatti viene da pensare questo. Può essere effettivamente uno dei famosi sintomi dei quali lei prima mi chiedeva, nel caso del signor Lunardi, che sento adesso e conosco adesso, sinceramente non lo conoscevo prima dettagliatamente, può essere effettivamente stato un sintomo, certamente le banche sono molto più avanti del comune cittadino o anche dell'imprenditore nel conoscere, nel prevedere quelli che possono essere gli sviluppi dell'economia e quant'altro, quindi può anche darsi che effettivamente nel caso del signor Lunardi abbiano inteso ripartire il rischio, abbiano inteso iniziare a dire vediamo un po' di mettere nei guai qualcun altro, qualche altra banca e eventualmente un domani se Lunardi non ce la facesse più rientrare, ecco questo può darsi che sia stato il motivo di questa iniziativa che in effetti è abbastanza strana, proprio perché non c'era interesse della banca, finché il cliente è buono non c'è interesse a spartirlo con qualcun altro, ecco questo sicuramente. Quali vizi voi riscontrate di solito? Quali sono i problemi più frequenti che si possono incontrare? Abbiamo un caso particolare perché ce ne sono tanti di analoghi. Sì, i vizi sono molteplici, noi controlliamo, al di là che bisogna sempre essere consci e consapevoli, quindi è opportuno sempre controllare la propria posizione nei confronti della banca, i vizi che si riscontrano di solito sono i normali vizi contrattuali, oltre, naturalmente siamo andati oltre rispetto all'usura che trascende anche i meri aspetti civilistici e quindi i normali aspetti dei rapporti commerciali. Ci sono i normali vizi contrattuali a cui si aggiungono quelli caratteristici di un contratto per la natura di finanziamento e quindi per esempio il famoso anatocismo che era la prassi, che è la prassi in uso che consente di, adesso consente una volta non era consentito, però era comunque una prassi in uso, era la capitalizzazione degli interessi sugli interessi, quindi il fatto che si pagassero gli interessi non solo sul capitale, cioè sul servizio effettivamente reso dalla banca, ma che questi interessi diventassero in tempi piuttosto ridotti, normalmente appunto un trimestre come prassi, diventano a loro volta capitale e generano a loro volta interessi. Questa era una prassi assolutamente illecita fino a, adesso è stata diciamo, era una prassi illecita fino al 2000, fino al 99 diciamo, no, le banche erano, diciamo era anche una convinzione diffusa che ci fosse la possibilità di derogare una norma che era del codice civile che lo vietava invece. Poi sono intervenute alcune sentenze che hanno, anche con effetto retroattivo, quindi hanno stabilito che quella non era una prassi corretta. In effetti questo, poi nel corso degli anni 2000 bene o male questa prassi è stata regolarizzata, però possiamo contestarla sulle posizioni di lungo respiro, quindi che sono diversi anni che si sviluppano. Quindi non è un caso singolo, non è un'ipotesi di breve periodo eccetera, bisogna che comunque ci sono delle prove. Sì, come è normale che sia, perché capiamo che per capitalizzare, per arrivare a un certo... Non azzardate insomma. Questo è solo uno, poi ci sono tutti gli altri illeciti contrattuali, quindi le normali pattuizioni, quindi per esempio il tasso deve essere ben determinato, ben corretto e una volta, soprattutto una volta, le banche non usavano ben determinarlo ma rinviavano per esempio a degli usi, tipicamente negli anni di vanta, rinviavano agli usi piazza ed era una prassi che poi si è rivelata scorretta. Assolutamente. Torniamo a parlare di questo, all'interrompo un attimo, andiamo rapidissimi in pubblicità, poi vediamo anche di rispondere ai vostri messaggi, tra poco.